non vedevo uno scempio così da almeno cinque anni ma che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo che bel carnevale che bello scherzo di carnevale che ce lo state facendo veramente che schifo di partita madonna mia madonna non avevo voglia di vederla per il semplice fatto che colmina c'è sempre qualcosa di strano che succede sempre ma stasera proprio uno schifo proprio incommentabili incommentabili che abbiamo già tanto che abbiamo pareggiato già un miracolo non so manco io come abbiamo fatto a pareggiare questa partita ma perché il Milan fa cagare fa cagare non ha fatto niente per vincere nel secondo tempo il Milan tanto meno l'inter tanto meno l'inter ti rimporta io non me ne ricordo da parte dell'inter non me ne ricordo non me ne ricordo le cazzate pazzesche nel primo tempo poi che sono inspiegabili inspiegabili andamici che passa a min che passaggio in orizzontale a centrocampo io veramente non non so più che dire non so più che dire Lautaro Lautaro non serviva un cazzo inzaghi fagli fare un po di panchina fagli fare un po di panchina per favore fagli fare un po di panchina sto qua perché veramente non è possibile se non è in un buon momento non deve partire dall'inizio basta venerdì io non lo voglio vedere titolare voglio vedere piuttosto qualcun altro già che è entrato Correa un miracolo e ha fatto un cazzo in quei cinque minuti che voleva fare così come Sanchez che perdeva ogni tre per due Drosovic ha fatto cagare ha fatto cagare pure Vidal ha fatto cagare tutti l'unico che si faceva un po un po il culo fatto qualcosa di meglio è Dzeko l'unico l'unico non so che dirvi non so che dire io non so dove cazzo andiamo a finire mo questa stagione dove cazzo andiamo a finire ci si aspettava che inizia marzo e magicamente febbraio il mese di merda spariva così no si pensava che col mese nuovo ci cominciasse risuscitasse l'inter di che abbiamo visto fino a prima del derby no no ragazzi no non è cambiato un cazzo non è cambiato un merito cazzo io veramente io stasera stasera facevo altro mi divertivo molto di più mi divertivo molto di più io mi divertivo molto di più io a cazzi miei e invece no ho voluto vedere sto scempio di partita non avevo voglia di vederla io già già ve lo dicevo ieri non avevo voglia di vedere sta partita non avevo proprio voglia di vederla perché già mi aspettavo già episodi strani teo ornandez pezzo di merda brian diaz che si butta sempre da solo no un milan che praticamente gioca il suo calcio di merda e noi non solo non contenti non contente mi ho fatto pure una partita di merda non giocandomi anche a calcio non giocandomi anche a neanche capaci neanche capaci di fare due passaggi di fila sta venendo caldo sta venendo caldo neanche capaci a fare due passaggi di fila cross di merda proprio c'è visto io non ricordo un inter così merdosa da almeno dal 2016 forse proprio l'inter peggiore della stagione questa e abbiamo pareggiato 0 a 0 veramente veramente quando quando meriti di vincere perdi ma che meritavi di perdere nettamente di perdere siamo riusciti a pareggiare miracolosamente e comunque continua continuiamo a non segnare 0 gol in un mese che non vedo un cazzo di gol a esultare in un gol non si esulta più non si riesce più a fare un gol di merda non si riesce più cos'è che non va non lo so non lo so stasera proprio mancando il gol psicologicamente si sono involuti non ci credono più non hanno più gli stimoli non riesce più nulla non capisco motivazioni non so dove trovare le motivazioni ma col Genoa tanto quanto occasione abbiamo creato male giocato male ma qualche modo qualche palla pericolosa arrivava qui stasera proprio niente non ho visto proprio neanche forse un paio di tiri pericolosi ma niente di che niente di che proprio non si è visto il nulla proprio mi ha fatto nulla per vincere questa partita proprio mi ha lasciato così com'era finisce 0 a 0 va bene così leviamoci sto dente perché io veramente è stata un'agonia una partita di agonia totale dal primo all'ultimo minuto non ce la facevo più proprio è proprio la prima volta dopo non so quanto tempo forse dei tempi di merda dei periodi in cui non vincevamo mai che proprio non vedevo loro finisse la partita veramente stasera mi sono trovato in questa situazione ed è brutto ed è brutto cioè che fino fino a quanto meno dicembre gennaio arrivi che mi chiedono che giochi mi chiedono che ci sia la partita mi chiedono di vedere sai giocatori nuovi giocatori no vedere dei gol esultare soffrire ma stasera proprio non avevo voglia di vederla e mentre la vedevo neanche mi hanno me l'hanno fatta venire la voglia di continuare a vedere l'ho guardato giusto perché volevo vedere come andava a finire giusto per curiosità giusto perché giusto perché tifo inter perché non avessi tifato inter non fosse fregato niente questa partita qua era da cambiare canale e anzi spegnere proprio la televisione anzi accendo solo per giocare la play stasera cioè era proprio da giocare la play stasera invece no io ho continuato a soffrire soffrire ma non soffrire perché stavamo vincendo soffrire a vedere un inter così involuta così senza senza come posso senza personalità senza voglia senza non lo so sono a terzi giocatori psicologicamente non so in zagi cosa vuole fare chi è sempre la stessa formazione io a questo punto venerdì cambierei qualcosa perché non è possibile non è possibile in una partita non non creare azioni da gol che quando prima le creavi fai 20 tiri col genoa non segni fai lì non segni ma stavolta non ci sono proprio non ci sono scuse mi ho fatto cagare dal primo all'ultimo minuto non c'è stato proprio nulla stasera il nulla cosmico il nulla cosmico ora testa a vederdi con la storia italiana sono molto preoccupato molto preoccupato perché anche con la storia italiana rischiamo di fare una bella figura di merda spero proprio di no prima o poi capiteranno i momenti buoni ma in questo momento non vedo proprio nulla nulla di così di così fiducioso vediamo un po' se magari gosens giocherà con più continuità potrebbe forse aiutarci lo spero proprio lo spero proprio e anche i caisseto magari i nuovi innesti ci daranno una mano chi lo sa non lo sapremo mai vedremo un po' nei prossimi giorni ma stasera proprio sono totalmente deluso deluso e e proprio mi hanno fatto proprio svogliare di vedere altre partite perché non ho visto nulla stasera stasera non abbiamo proprio giocato stasera non abbiamo proprio giocato e abbiamo ottenuto il massimo che potrebbero ottenere per quello schifo che abbiamo fatto un punto e un punto cazzo non è magari magari un punto per fare 0 a 0 in campionato piuttosto che e perdere qua piuttosto che che perdere in campionato comunque potremmo fare un gol almeno almeno il gol fuori casa valeva doppio no allora rischiamo pure di pareggiare al ritorno 1 a 1 2 a 2 riusciamo comunque e non andiamo neanche in finale di Coppa Italia comunque testa venerdì e vediamo di riprendici presto perché veramente stasera è stato uno scempio totale iscrivetevi al canale sempre Forza Inter ci vediamo alla prossima ciao